Qua siamo veramente in un room day, perché quando hai delle bottiglie di questo calibro che non sono mai viste nelle fiere, sei veramente nel room day. Sono tutti esperti, la gente che sta qua ha veramente il knowledge per far capire l'altra gente per la missione in room. It's an amazing show, I'm really pleased that rum has been brought to the north of Italy. This is the second year, I was here last year, I think it's growing, it's getting more popular. We need rum, we need more people drinking rum. I think it's a very positive event for me to understand what is Agri-Core Rum. 8.000 partecipanti della prima ora. I'm here with my importer, we both meet new people, I can introduce my brand, I can talk to the customers, it's really a cool event, I'm very happy to be here. Giornata sicuramente positiva, tanta gente, stiamo facendo assaggiare i nostri prodotti. In modo che la gente possa avere una panoramica di quello che c'è sul mercato. Quando sei qui ti diverti perché vedi gli amici, saluti, la gente ti viene a salutare. Un modo per incontrare gente del settore, colleghi, consumatori finali, tutta la filiera distributiva, barman. Non so quanti rum fantastici ho assaggiato e quindi la pelota si conferma proprio una appuntamento da non perdere. Milan! We're in Milan at the Rum Day and it's an amazing event, loads of rums, loads of fun, loads of rum and even more importantly even great rums and pure rums. Devo dire che sono molto soddisfatto in quanto è stato un grandissimo successo di pubblico ma soprattutto sono stati i prodotti quindi Rum a essere protagonisti. sempre un onore e un piacere vedere la crescita professionale di questo settore nel paese che amiamo di più al mondo. A presto! 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 Grazie a tutti. 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 Io penso che questa, come tutte le altre manifestazioni dell'anno, sia stato un successo. C'era tantissima bella gente, gente simpatica, le marche di room presenti erano favolose, gli ospiti erano strepitosi, ma soprattutto c'erano tantissimi, 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 tantissimi barman simpatici e anche tantissimi barman, vi aspettiamo l'anno prossimo. Non mancate!